Oh, eccoci qui finalmente a vedere come si fa la vera tagliata, perché tanti gli sbagliano, la fanno sulla piastra, la fanno sui carbone, c'è chi la fa per rito, sull'osso, gli sbagliano tutti. Sciole la fiaccola, una fiaccolata, una bella fiaccolata e la carne diciamo la si carbonizza, la va a carbonizzare, perché se no non è la vera tagliata. Sanno una sega i fiorentini di come si fa a fare la bistecca, infatti gli sbagliano, perché ci mettono il sale, invece ci ha messo il vino rosso, e poi non si coce sui carbone, sulla brace, ma la va a cotta diciamo con la cannella di gas, c'è un bombolone di gas, c'è la bombola e la fiaccola, gli si dà una fiaccolata, vedete che fa la crosta, diciamo la viene inglassata, la viene diciamo proprio caramellata, e con le forbici di gatto, che tu tagli la ciccia di gatto, tu ci vai diciamo a fare la vera tagliata, infatti gli è tagliata. Che spettacolo, vedete in questo, in questo osso l'ercio sudicio, quella carne la si va diciamo a rimbrattare, dell'olio che gli aveva perso precedentemente in cottura. Mi raccomando, un'avvertenza, se ve lo fate in casa, chiudete tutte le finestre e gli usci, se rarognosa, perché diciamo gli odori, i fumoni, deve rimanere l'essenza, l'esalazione di gas in casa, perché e vuol di tanto, ma anche diciamo ai palato gli dà qui non so che. Che classe, altro vino rosso, olio, no, che gli è, olio, questo gli è olio 1540 della Panda a diesel, quella, la Panda 30, quella degli anni 80 proprio. Che spettacolo ragazzi, che spettacolo, vedete, ho l'impiattaggio, l'impiattaggio, l'impiattamento, l'impiattaggio diciamo, vedete che classe, una fettina accanto a quell'altra. Andiamo al condimento, la tagliata a funghi, la tagliata a teriolore, gli è sbagliato, bisogna metterci le zucchine a rondelline e poi dopo ci si mette il mais, il mais, non si sa mai, non ci si mette, che spettacolo, vedete, che classe, una strizzata di non si sa che cosa e dell'altro condimento che gli dà, diciamo a voi qui il marron glacé, il marron glacé, delle merde, delle feci, delle merde, vedete che spettacolo, questo ragazzo con questa persiana di capo, ripeto, c'è della classe, via, buona Ugo.